Sulla ricostruzione delle scuole nel centro storico della città dell'Aquila si ascolti la voce dei cittadini. Il consigliere comunale di opposizione Paolo Romano di L'Aquila Nuova torna sul tema dell'edilizia scolastica, che nel recente passato è stato anche argomento di sedute ad hoc di commissioni e consigli comunali. L'idea di Paolo Romano, che tra l'altro è stata avallata anche dal Partito Democratico, sarebbe quella di attivare una raccolta firme che possa poi portare all'indizione di un referendum consultivo. L'obiettivo è capire quale sia l'idea e l'orientamento effettivo dei cittadini aquilani in materia di pianificazione degli interventi di edilizia scolastica nella parte centrale della città. È il territorio che, secondo me, ma secondo noi, si dovrebbe esprimere su qual è il miglior servizio scolastico da garantire nella zona centrale della città. Noi crediamo che i servizi all'interno del centro storico siano importanti a partire proprio dall'edilizia scolastica. È stato fatto già una proposta all'interno di un consiglio comunale, attraverso un ordine del giorno, da me sottoscritto e sottoscritto anche da tutti gli altri membri dell'opposizione, che però la maggioranza non è inteso approvare, come se si avesse paura di chiedere al cittadino il proprio pensiero. Questo non è solamente un fatto di immaturità, è un fatto anche di debolezza nelle scelte che sono state fatte sull'edilizia scolastica. Ma a maggior ragione credo che questo tema del proprio consultivo vada riproposto. Ieri lo ha fatto anche il Partito Democratico, che ringrazio per il comunicato che ha fatto. Adesso vanno raccolte le 5.000 firme che dovranno portarci realmente a questo referendum consultivo in tempi, speriamo, più celeri possibili. Grazie a tutti.